E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Ascoltatemi, questa è la quarta e ultima battaglia alternativa del terzo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 11. Se noi avevamo usato Kung Lao per sconfiggere Geras, ora lo facciamo con Yu Kang. Fidatevi di me. A ogni video che recensisco io parlo seriamente, capite? Io ho sempre detto le Oseumestan, ho sempre detto la verità e poi non vi ho mai tradito. Non dimenticate che io sono sempre il re dei videogiochi, che non venude mai. Ora dovete dirmi se le battaglie alternative della modalità storia vi piacciono oppure no. Bene, e il video finisce qui. Sapete che vuol dire che quando un video finisce voi non dovete far altro che iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e basta. Fateci sapere cosa ne pensate del video nei commenti qui sotto.